ciao a tutti ragazzi noi siamo i rec e bentornati in un nuovo video su gta 5 online oggi un glitch pazzesco per duplicare le macchie quindi fare un sacco di soldi solo quindi è molto bello e anche abbastanza facile devo dire iniziamo subito la prima cosa da fare è iniziare questo glitch in una sessione con 25 milioni minimo meglio se più 26 perché di solito in queste funziona ok ragazzi per verificare per verificare che il glitch funzioni dovrete prima di tutto eseguire questo test quindi ruberete una macchina qualunque della della strada diciamo chiamerete uno fra martin simon o ronald gerald adesso mi ricordo chi fa questi ultimi due vi dà l'attività comunque io chiamo martin e richiederete un'attività eccola qua estradizione eccola qua l'avvierete e uscite subito dopo di che correte subito alla macchina è andata avanti la macchina si dovrebbe bloccare come se attivaste il freno a mano e voi dovreste uscire immediatamente solito però la prima volta non funziona mai quindi andate ancora sull'istattività abbiate sempre la stessa attività e uscite di nuovo correte sempre alla macchina è andata avanti come vedete adesso la macchina si blocca e voi uscirete automaticamente sta funzionando anche perché non vi potete più rientrare quindi questa sessione diciamo che va bene per questo glitch se non dovesse funzionare la seconda volta provate a cambiare sessione vi ricordo che deve essere sempre di più di 25 membri anche per fare questo test se no non andrò ok una volta che funzionerà la lobby quello che vi abbiamo appena fatto vedere dovrete rubare una macchina della strada e noi vi consigliamo la benefactor schwarzer la fuggiti che è questa qua se prendete una macchina dalla strada tipo che si può modificare si può mettere due rigoni e così però una volta fatto ciò dovete spaccare la portiera come farete basta entrare e dovete andare subito in retro e andare contro il giro vedete è facilissimo dopodiché la parcheggerete di fianco al garage vostro o anche un appartamento va bene qualsiasi noi per fortuna abbiamo già qui il garage che è vicino perché poi ci servirà il sento spazio dovete metterla esattamente così dalla portiera da questa parte in modo che quando uscirete entrerete automaticamente nel garage ecco non deve farti questa cosa perché devi uscire da sinistra non da destra e ci metterà un paio di secondi prima di entrare nel garage una volta fatto ciò dovete uscire subito velocemente può correre come farlo lo scavo si più veloce che potete usciti e dovete rientrare nella macchina e se ha funzionato la portiera si dovrebbe essere riparata anche se è rotta infatti si è riparata però comunque si è riparata che sta funzionando ora andremo allo santos custom dove si svolgerà al vero e proprio diciamo glitch eccoci ragazzi allo santos custom una volta arrivati qua dovete un pochino romperla nel caso fosse già rotta e entrerete appunto nel meccanico ora se avete soldi la politica tra massimo ve lo consigliamo vivamente perché così farete un mucchio di soldi duplicherete auto molto più costose per poi rivendere noi visto che non abbiamo soldi dobbiamo tenerci lì perché dopo ci sono altri punti da spendere l'unica cosa importante è cambiare il colore primario quindi che è fondamentale è fondamentale mettiamo classici andiamo su quello che volete facciamo l'argento è importante non mettere nell'assicurazione nella prevenzione perdita furto quindi quando avete fatto potete uscire quindi uscite e fondamentale mi raccomando ragazzi allo santos custom riverniciarla con il colore primario e non mettere la prevenzione perdita furto ok ora iniziamo il vero e proprio glitch diciamo ok ragazzi appena usciti dallo santos custom dovete fare un giro così se vi vedete con una macchina diversa è perché ho dovuto rifare tutto il glitch visto che questo pezzo non me l'ha registrato comunque il principio sarà lo stesso e posizionarvi con la ruota posteriore sinistra sull'angolo in alto a destra del tormino in modo da avere così il los santos custom aperto ora andrete ad avviare l'attività di mardi l'unica che avete richiesto nel mio caso sarà diversa proprio perché ho riavviato il glitch ma sarà sempre la stessa di quando abbiamo testato l'allocchi per intenderci l'unica che avete richiesto da martin l'avviate e uscite subito dopodiché correte alla macchina più velocemente possibile e entrate allo santos custom ora dovrete riverniciare l'auto quindi date su verniciature colore principale classici e mettiamo un bel nero carbone usciamo e ora dovrete aspettare cinque secondi uno due tre quattro cinque o anche di più che è sempre meglio dopodiché girate lentamente la visuale e come potete vedere ci sarà un duplicato della macchina ok ragazzi una volta fatto ciò dovrete risparcare la portiera della macchina quindi entrate duplicato cioè andate subito indietro vedete è falda cioè dovete aprire la portiera no lo dico aprire la portiera e scacciare subito indietro entro marce esatto ora andate indietro e la parcheggiate contro quella diciamo qua cazzo si chiama la barriera però dovete andarci addosso spaccandola però dovete andarci di più in potenza come se c'è un figlio eh vedete andate indietro la lasciatela scusatevi non so qualche secondo scendete dalla macchina prendete quella macchina di prima quella duplicata e quello che abbiamo appena fatto è importante così non vi sparirà la macchina mi raccomando fatelo e quindi entriamo andiamo a mettere l'assicurazione e mettiamo l'assicurazione e anche assicurazione e dovrete distruggerla esatto quindi ragazzi la distruggiamo così poi la potrete richiamare diciamo con la che cazzo stai facendo col meccanico e la potete vendere quando volete però è importante diciamo distruggere non è una granata abbiamo solo questo ragazzi sono fuori ragazzi una volta fatto ciò vorrete ricercare sicuramente chiamare telester per per alterare il sospetto oppure scappare come abbiamo fatto noi poi potete per andare avanti col glitch e duplicare sempre la stessa macchina quante volte volete riprendete la macchina e ripartirete da dal punto del tombino che cazzo vuoi vi ripiazzate sul tombino dicevamo e sempre la stessa attività e via infatti sto procedimento all'infinito ragazzi è la stessa cosa lo facciamo rivedere così uscite sempre poi entra e entrate più velocemente se potete ok si apre e cambiamolo ripariamo cambiamo colore lo mettiamo adesso ripariamo cambiamo verniciatura colore principale classici facciamo argento blu poi aspetta 2 secondi abbiamo duplicato ancora una volta noi ve lo facciamo vedere per far vedere che funziona 1 2 3 4 7 7 7 ok ora giriamo e la macchina e god un cifo poi fate lo stesso procedimento la rimettiamo no spacchiamo la portiera poi la rimettiamo là e lo sapete diciamo quindi ragazzi speriamo che questo video vi sia piaciuto un bel commento pazzesco un bel commento un bel mi piace anche un'inscrizione sarebbe ben accetta ragazzi non provate a scrivere questo non è un glitch non l'avete trovato non l'avete scoperto niente perché c'abbiamo c'abbiamo c'è anche questo ci continuiamo stigioni sta lavorando un casino di glitch quindi siamo anche liberi non scriveteci questo è un bel click comunque per noi è un piacere comunque per noi noi apprezziamo ogni commento forse un ritorno di San Andreas forse un ritorno in GTA San Andreas fate sapere se lo volete se siete dei f***i vecchi fanno diciamo ragazzi noi poi se volevamo fare sì però ovviamente su un po' più santo pissa qua adesso decidiamo però comunque con una bella grafica e fare un bel gameplay dall'inizio ah se ragione eh vabbè ho cannato il glitch beh Ricky doveva metterla su questo non fa niente voi sapete il procedimento e noi vi ringraziamo ci vediamo a un prossimo video speriamo che questo vi sia piaciuto mi raccomando commentate se perché ci avete richiesto un glitch di duplicazione delle macchine quindi l'abbiamo fatto commentate con altri click se volete commentate se volete due tre video su San Andreas così per tornare un po' ai vecchi tempi ai vecchi tempi esatto e noi ci vediamo al prossimo video ciao dai recchi ciao 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 ciao